Vieni in campagna, dicevano, potrai registrare dei video magnifici, dicevano, cicale che frenescono, gente che spala, vabbè ragazzi la differenza tra un influencer e me è che io faccio video perché mi piace farli, mi piace parlare di queste cose e non sono interessato a curare troppo gli aspetti estetici, non sono neanche bravo a farli, però non ce la posso fare ragazzi, quindi spero che mi seguiate fin qui, che vi piace quello che state vedendo, che i contenuti vi facciano andare avanti nonostante i bellissimi suoni della natura, mi tocca da stia facendo il mio vicino. Siamo quasi alla conclusione della serie di video sui disturbi alimentari trattati tramite la terapia breve centrata sulla soluzione, terapia breve centrata sulla soluzione che spesso non usa delle prescrizioni, non dà dei compiti ma qualche volta sì e questa seduta riguarda i compiti che si possono dare alla fine della, questa seduta ho detto interessante, questo video riguarda i compiti che si possono dare alla fine della prima seduta ma anche delle altre, ma una cosa da cui dobbiamo partire è come dare i compiti, perché i compiti non sono cose che tu puoi semplicemente dire, fai questo e tanti cari saluti ci vediamo tra due settimane, perché immagina che qualcuno per strada ti ferma o comunque il tuo macellaio di fiducia o il tuo meccanico di fiducia ti dicono, ok da oggi in poi tu devi fare così, così e così, ciao. Tu potresti farlo se hai una fortissima fiducia nel tuo macellaio, una persona che ti ha fermato per strada, che è un po' più difficile, o nel meccanico, oppure vorresti capire il perché, soprattutto se si tratta di qualcosa che riguarda la tua vita, dare un senso a ciò che devi andare a fare per te ha senso. E questo vale anche per i compiti in psicoterapia, lo psicoterapeuta stile modello ippocratico, modello medico che ha il camice, l'imposizione delle mani, dalle cose la persona le fa chinando il capo, è roba vecchia che sta tramontando, quindi se vuoi aumentare la complianza, l'aderenza ai compiti devi anche darli in un certo modo. Ci sono diversi modi per farlo, c'è quello più strategico di cui ho parlato, di cui parlerò, peraltro ancora di più in alcuni video su come utilizzare il tono, la comunicazione non verbale, paraverbale in particolare, ma ci sono anche altri modi tra cui quello solution. E quello solution prevede complimenti, accordo e fondamento logico. In pochissime parole, quando devi dare un compito, innanzitutto fai dei complimenti, dai un messaggio di feedback in cui fai dei complimenti per quello che è emerso dalla seduta e che in particolare per questo tipo di pazienti va a sottolineare il duro lavoro, l'impegno che hanno messo fin lì per raggiungere il punto in cui sono arrivati. Il secondo è un tornare un attimo sull'accordo che avete già stretto in precedenza rispetto all'obiettivo della vostra terapia. E il terzo punto è dare un fondamento logico al compito che gli andrai a dare, che non si tratta nient'altro, in linea di massima, di far capire perché quel compito possa aiutare la persona per quel tipo di accordo che avete preso. Non si tratta assolutamente di spiegare la logica, l'epistemologia, la teoria psicologica o la teoria della tecnica che sta dietro il compito, ma di dare una base anche molto semplice che possa connettere l'accordo, l'obiettivo che dovete raggiungere al compito che gli stai per dare. Ovviamente poi c'è una quarta fase che è quella di dare il compito. Ti faccio un esempio leggendo proprio dal libro Brief Therapy and Eating Disorder da Mike Farland, da cui ho preso ispirazione per questa serie di video, che va a mostrare come dare questo messaggio di feedback. Sharon, prima di tutto vorrei complimentarmi con te per la tua decisione di iniziare a lavorare sul tuo, controllare il tuo peso in delle modi più salutari, dei modi più normali. Questo peraltro è virgolettato, che significa che la terapeuta sta proprio riprendendo esattamente le parole della paziente. Basandomi su quello che mi hai detto, come risultato del tuo impegno messo per risolvere questo problema nelle precedenti terapie, tu sei stata già capace di terminare in modo totale l'uso dei lassativi, per esempio andando a incrementare il tuo andare a correre tutti i giorni da 12 miglia a settimana fino a 15 miglia a settimana. E questo sembra aver fatto una grande differenza, tuttavia sono d'accordo con te che di certo non è abbastanza. La tua incapacità di controllare il tuo comportamento compulsivo è quello che serve risolvere in questo momento. Ovviamente, perdonami, ho usato questo gesto per farti vedere parole che la terapeuta ha usato e che erano state usate a loro volta in prima istanza dalla paziente stessa. Dato che tu vuoi focalizzarti su questa questione del risolvere il tuo buffarti compulsivo, andrò a chiederti se vorresti fare una cosa tra qui e la prossima settimana, un compito. Ecco, un modo molto semplice per appunto fare complimenti, fare un recap dell'accordo sugli obiettivi e poi dare un razionale logico che come vedete in questa situazione è semplicemente un dire per andare incontro all'obiettivo che ci siamo dati, ti darei un compito da fare mirato a questa situazione, a questo obiettivo, raggiungimento di questo obiettivo. E a questo punto che compiti diamo? Beh, prima di darti un paio di suggerimenti, un paio di compiti che puoi dare, ci sono altre tre cosine che devi tenere in mente. Lo so, ragazzi, voi volete le tecniche, la mia tecnica te le risolve, però la tecnica tu la devi calzare su chi hai di fronte, perché altrimenti trovi come quei pazienti che magari vengono da me e mi dicono il terapeuta mi ha dato questa tecnica, vale anche un terapeuta del mio stesso approccio, mi ha dato questa tecnica e non ha funzionato, non l'ho messa in atto. La tecnica era anche adeguata per quel tipo di problema, ma era adeguata per quel tipo di persona, quella persona dava un senso a quella tecnica. Questo è uno dei motivi principali per cui le persone poi non seguono i compiti, non perché sono resistenti, ma perché non hai creato le condizioni per far sì che li seguissero. Quindi la prima cosa che devi considerare è valutare il tipo di relazione terapeuta-cliente che c'è stata durante quella seduta o la fase del cambiamento in cui la persona si trova. Non ti vado a rispiegare di cosa sto parlando perché i primi video che ho fatto sull'argomento riguardavano proprio questo. Posso però sintetizzarti che se ti trovi di fronte a una persona che si trova in una fase di pre-contemplazione o in una relazione terapeutica di visitatore, non devi dare compiti. Perché non devi dare compiti? Perché la persona non ritiene di avere un problema, non ritiene di avere quel problema, quindi non ha senso che tu gli dia dei compiti su quel problema. Potresti darglieli su un altro problema, ma vuol dire che rispetto a quel problema è in una relazione di lamentatore o di cliente oppure che è in una fase di contemplazione o di azione. Allora lì darai i compiti, ma su quel problema, quello alimentare, se lei non è ancora una cliente o una lamentatrice perlomeno, o se è ancora in fase di pre-contemplazione non devi dargli i compiti, semplicemente fai complimenti per gli sforzi messi in atto e le dici che la tua porta è sempre aperta se non dovesse volere altre sedute in quel preciso momento. Se è in una fase di contemplazione o in una relazione lamentatrice, puoi dargli dei compiti di osservazione e riflessione. Cioè semplicemente ti dici di notare tutto ciò che avviene di positivo o comunque che vorrebbe che continuasse ad avvenire, di rifletterci su e poi la prossima volta che vi vedrete di parlarne insieme. E questo ti aiuterà ovviamente ad andare poi a elicitare nella seduta successiva eventuali eccezioni e sperare che magari è passata in uno stadio, non nella seduta successiva, ma magari in quelle dopo, in uno stadio di azione e di presa in carico del proprio problema, cioè in una relazione di tipo cliente. Se è in una fase di tipo cliente, cioè in una relazione, scusami, di tipo cliente o è in una fase di azione, secondo sempre il modello di Prociasca e di Clemente, allora gli puoi dare dei doing tasks, cioè dei compiti che riguardano il fare qualcosa e ora ne vediamo qualcuno. Se non hai capito questi ultimi minuti vuol dire che non ti sei vista i video precedenti dove vado a parlare di queste fasi oppure che te le devi ripassare. Ti guardali e ti sarà tutto più chiaro. La seconda cosa che devi fare nel momento in cui, particolare in cui vai a dare dei compiti, sia che siano di osservazione, sia che siano dei doing tasks, è integrare le eccezioni nel compito. Questo puoi farlo in diversi modi. Per esempio, se sono compiti di osservazione, puoi chiedere di continuare a notare quando avvengono quelle eccezioni, che cosa succede, che cosa fa di diverso e di notare quando avvengono altre eccezioni. Se invece è in una fase di doing, cioè di azione, e gli vuoi dare tu dei compiti da fare nello specifico, puoi evolverli da quelle eccezioni. Puoi chiedere di continuare a farle, di farle ancora di più, di farne altre collegate ad esse, oppure di fare degli ulteriori compiti che tra poco ti faccio vedere. E numero tre, spiega il tuo intento alla cliente. Quando prima ho raccontato Sharon, quello che viene comunicato a Sharon, hai visto che è stato molto semplice. A volte però potresti aver bisogno di dare qualche spiegazione in più. Non avere paura di chiedere feedback al tuo cliente. Chiedi, ha senso questa cosa? Make sense for you? Ha senso? Va bene? Vuoi provare? Non avere paura che la paziente dica, no, non ha senso, non funziona secondo me. Perché se te lo dice, puoi cercare un nuovo accordo, che sia anche cambiare completamente le carte in tavola, che sia anche dire, diamine, abbiamo speso la seduta su questa cosa, pensavo che eravamo io in linea, invece no, che cosa facciamo? Ci diamo un'altra seduta per approfondire di più? La paziente è molto più propensa a dirti, sì, diamocela, poi questo è un caso estremo che sinceramente finora non mi è mai capitato, però potrebbe capitare. La paziente potrebbe essere molto più propensa a dirti, sì, facciamola, perché comunque sento che mi hai ascoltata, visto che mi stai dicendo che effettivamente non hai compreso, piuttosto che invece trovarsi di fronte un trapeuta che va dritto per la sua strada, ignorando chi ha di fronte, che potrebbe produrre invece un drop out. Quindi, arriviamo ai compiti, so che ti stai leccando i baffi per questo, bene, i compiti in Solution Fagos sono molto semplici ma molto potenti e ce ne sono due che puoi utilizzare in particolare alla fine della prima seduta e eventualmente anche nelle sedute successive. Il primo compito è quello del lancio della monetina. È un compito il cui scopo è quello di rendere le eccezioni spontanee, le eccezioni casuali, come più deliberate. Infatti, nel video precedente hai visto che ho parlato di due tipi di eccezioni, quelle che sono appunto deliberate, che la persona sente che mette lei in pratica, sente di poter continuare a mettere in pratica, e quelle che invece sono casuali, che la persona non sente di mettere in pratica volontariamente, semplicemente capitano. Ecco, noi possiamo trasformare queste in quelle, possiamo trasformare quelle casuali in deliberate. In altri termini potremmo dire che possiamo riconsegnare alla persona un maggior senso di azione, di essere lei, di self-efficacy, riprendendo Bandura che ho citato nei primi video, facendo sì che abbia la percezione che effettivamente è lei a fare qualcosa di diverso. Ecco cosa dirai alla tua paziente. Da qui alla prossima volta in cui ci vedremo ti chiedo di prendere una monetina e poggiarla sul tuo comodino. La mattina, quando ti svegli, voglio che come prima cosa prendi la monetina e la lanci. Se viene testa, farai finta di comportarti come se fosse avvenuto il miracolo. Se viene croce, voglio che tu ti comporti come se fosse un giorno come un altro. Tuttavia, nei giorni in cui viene testa, voglio che tu noti cosa c'è di differente, qualunque differenza dovesse occorrere. La prossima volta in cui ci vedremo, me ne parlerai. Nella seduta successiva dovrai fare delle domande che vanno proprio a elicitare, ad amplificare, a scoprire le eccezioni che effettivamente si sono prodotte durante questa settimana o queste settimane in cui ha messo in atto il compito, andando a cercare di far tirar fuori le riflessioni della persona su perché si sono prodotte quelle differenze, qual è stato il suo ruolo. Questo compito, te ne sarai resa conto, porta la persona a rendersi conto che effettivamente c'è una sua azione, qualcosa che le fa anche di piccolo. E tu ricorderai che con questi pazienti è importante sottolineare le piccole cose che fanno e sottolineare il fatto che richiedono duro lavoro. Quindi potrai continuare ad amplificare quelle eccezioni dalla seduta successiva. Ora comprenderai che questo compito è molto più probabile che venga messo in atto da persone che si trovano nella fase dell'azione. Quelle che si trovano nella fase della contemplazione probabilmente non lo faranno, però potrebbero notare qualcosa di diverso. E allora ecco un compito adesso per chi si trova nella fase di contemplazione. Ed è ovviamente, come ho anticipato, il compito della osservazione. Un'osservazione non casuale, un'osservazione collegata proprio alla lamentella che la persona porta. Perché ti ricorderai che in questo incrocio tra il modello di Prociasca e di Clemente e il modello solution focus, la persona che si trova in una fase di contemplazione è anche una persona che generalmente è una lamentatrice. Cioè dice di avere un problema ma di non poter fare niente per cambiarlo, oppure che deve continuare a parlarne, parlarne o deve ricercare le cause. Quindi tu le chiederai di fare, di osservare proprio quando ci sono le problematiche di cui lei si lamenta, come per esempio quando fa la buffata o quando cerca di mangiare di meno, o quando fa esercizio fisico per compensare il fatto di aver mangiato, eccetera, ma non lo mette in atto. Non mette in atto la buffata, non mette in atto la restrizione, non mette in atto l'esercizio fisico o lo mette in atto un po' di meno. Questo compito, anche l'avrai capito, porterà la persona a osservare con più attenzione quello che fa e a rendersi conto del fatto che probabilmente dipende un po' da lei la situazione. Anche qui dovrai essere paziente ed andare step by step. Due compiti. Ce ne sono di più anche nella terapia Solution Focus, che però, come sai, è un tipo di terapia che non si basa troppo sull'assegnazione di compiti, ma molto sul dialogo. Spero comunque di averti dato qualche idea al riguardo e che mi posterai nei commenti i tuoi feedback, magari anche iscrivendoti, cliccando sulla campanellina, che è super importante per me, perché mi aiuta ad avere più persone che vengono a conoscenza di quello che faccio, di quello che mi piace divulgare, delle terapie brevi con le diverse problematiche e ci permette di parlare tutti insieme di più della terapia breve centrata sulla soluzione, anche, ma non solo, con i disturbi alimentari. Grazie.